C'è tutti ragazzi, sono la Vacherano, ma sono qua con... Sto cazzo, sto... EZ Van, Marvel, e Tommy Zambo Per questo nuovissimo video, ragazzi... Ah, con chi li fai i video, RR? Io, a me, Zitto! Va con Marvel, Marvel, Marvel Basta! Vi metto subito un'immagine bellissima di Chico Ritler, disegnata da Just, la nuova miniatura, questa è la miniatura della settimana La Panarte La Panarte della settimana Allora, oggi ragazzi, proveremo i quattro fidget, le quattro app per fidget più economiche, infatti occupano meno di 5 mega all'una, tra l'ultima Proviamo subito la prima app, fidget e spinner Un casino assurdo, comunque Non è vero! Non è vero! Ma hai visto nulla del genere, di... Poco importa Possiamo subito scegliere questa schermata molto semplice, cosa fare? Cosa scegliamo? Allora, sman, more games Spicchiamo subito... Potete guardare Se non avete fatto il test, non sapete quanto... Ok, vedete, fanno una testa Vabbè, sembrava che magari è ancora l'esperto di fidget spinner Comunque si mette molto di più a per massimo, la verità Sì Beh, però non sapete... Ecco voi Oh, quello! Da una mano all'altra Oh, non credi voi! Sono proprio grande Sì, fa tutto Ah, ma... Eh... Beh, me lo sto passando da una mano all'altra Quanto record ho fatto? Quanto record ho fatto? Quanto record ho fatto? Come cazzo parlo? Già poco Pia del Angel fa... 37! Oh, qua c'è anche lo score! Qua che lo dà qui? New Fidget! Ah, ma... Beh, è già meglio quella di quella di Fidget! C'è un gioco, cazzo! No, come è 28? Ah, possiamo ogni volta cambiare Fidget! Oh, ragazzi! Fidget Avance con quella rosa! È grosso, però! Che schifo! Grande, grande! Oh, 25! Scusatissimo! Ah, non lo so io! Ma cosa? Bene! Integgio casuale, comunque! Quindi abbiamo visto che questo è già meglio di Fidget Spinner Quindi proviamo End Spinner 2, ragazzi 2, con scritto anche New, quindi questo è la quarta Sbagliamo tutto! Up, back! E invece no! Vedi, va, va, va! Slide mode o play? Play! Proviamo play intanto! Swap to speed! Qua record! Bello comunque, il tempo innovativo! E... 27, ok? Ma anche questo è la pubblicità! In sé, in sé, in sé! Non è la grafica migliore! 6, 6, 6... Bar, mettita, bounce! Che speed! 52, come venite! Però è slide mode! No, è il punteggio! Eh, non lo saprai! Oh, oh! Right, close, close, close! Che figo! Close, close, close! Epico! Ehi! No, ma è un troll! Ehi! Ehi! Ma che... Ah, c'è alcune! Ah, no, aspetta! Lo sai! Ma che fallito! C'è un fallito! Un fallito! C'è un fallito! Un fallito! Allora, ragazzi, proviamo... Per ultimo... Vigget Spinner! C'è un fallito! Questa è quella che occupa 5 Mega, quindi in teoria è la più bella! Guarda che... Oh mio Gio! Non c'è internet! Basta scheggiare quel tasso! Ti sto dicendo! Ma fai ancora! Posso dire la direzione in cui spinnare la direzione? Eh, 27! Eh, perché non lo mette nel test? Oh, cambia anche lo sfondo qua, eh! Cale è successo! Paranormal sentito! Mi sento male! Paranormal velo! Sì! Sì! Ma si sposta! Tenta! Sì! Tocca a Marva! Attenzione! Oh! Oh! Oh mio Dio! Ma che grande! Rai con 14! Non è ormai 14 comunque! Non è ormai 14 comunque! Non è ormai 14! Non è ormai 14! È 0! 14! 3! Oh! Ma cosa? No, infatti! Vabbè! Vabbè! Wow! Assurdo! Poi ha la 5! Ma cosa? Cosa? Wow! Ma che lancio che ti ho fatto? Io l'ho visto su Amazon, lo spinner as vastica! E niente, lo romperò! Grande! Ho detto che sei forte come i neri! Quali consigli ha? Ma lui è verità! Secondo me è pronto il YouTube video! Secondo me no! Ma che cazzo? Ragazzi adesso scegliete voi! Io vi ho fatto vedere le migliori app di fidget spinning! Ma mettete in fila! Che cazzo non puoi! Annulliamolo! E come sempre ragazzi ci vediamo nel prossimo video! Ciao ragazzi! Ciao! Un video in tendenza questa! Non ce ne frega un cazzo! Non ce ne frega un cazzo! Non ce ne frega un cazzo! Non ce ne fre...